L'insegna dell'Alleanza Assicurazioni Sono benvenuti i vigili del fuoco volontari di Castellamonte che hanno immediatamente spento il rogo. Successivamente con la scala sono saliti per controllare da vicino l'insegna e metterla in sicurezza togliendo la parte pericolante. Non sono chiare le cause del rogo ma con ogni probabilità si è trattato di un cortocircuito. L'insegna dell'insegna dell'insegna dell'insegna. L'insegna dell'insegna.